La differenza che a noi profani viene in mente è proprio questa, una situazione di consapevolezza. A marzo non c'era nessuna consapevolezza né nell'ambiente medico-scientifico né noi cittadini. Adesso noi andiamo in giro per lo più con la mascherina e immaginiamo che ormai siano chiari dei protocolli anche a livello ospedaliero. È un po' questo uno dei motivi per cui dobbiamo essere forse meno preoccupati di marzo. Ecco, direi che dobbiamo mantenere le precauzioni. La cosa più importante è quello che non chiamerei distanziamento sociale, che è un altro termine che è entrato ormai nel lessico familiare. Io la chiamerei distanza di sicurezza, che in estate è minore che in inverno, perché in inverno con la perfrigerazione, con la temperatura più bassa, con minore umidità, le particelle che vengono emesse con i colpi di tosse, con lo starnuto, con l'esalazione o parlando a voce alta, cose che si immagini in discoteca, cosa avviene. Quindi uno si parla molto da vicino. Ecco, di inverno le goccioline, quelle che sono il veicolo di trasmissione, perché il virus non è libero nell'aria, ma viaggia nelle nostre secrezioni o all'interno delle nostre cellule. Quindi non fa una grande distanza, più di un metro non arriva. Ma d'inverno queste particelle di 4 micron si possono condensare in aerosol e sono particelle più piccole che viaggiano. Viaggiano più in là e soprattutto, ecco, dobbiamo stare attenti ai luoghi di assombramento, anche perché il condizionamento e l'aria condizionata, se non c'è ricambio, se non c'è una doppia mandata, se non viene immessa l'aria dall'esterno e messa sotto pressione direttamente all'esterno. Quindi è un rischio di diffusione. Quindi, ecco, direi che dobbiamo avere le precauzioni, ma soprattutto, ecco, pensando alla scuola, dobbiamo considerare che la scuola, come la salute e l'educazione è un valore importante e non possiamo pensare ad un lockdown scolastico come non potremmo pensare a un lockdown economico, altrimenti la condizione sarebbe devastante per il Paese che già soffre di un decremento del PIL che viaggia dai 17 al 20%. Quindi, ecco, lei non immagina una situazione di lockdown come quella che abbiamo vissuto? Mi sarebbe impossibile. Metterebbe in ginocchio il Paese e mettere in ginocchio il Paese, soprattutto l'economia trainante, vuol dire mettere in ginocchio anche quelli che sono i presidi sanitari, soprattutto i finanziamenti alla ricerca che è importantissima in questa fase.